Buonasera, buonasera, bentornati a questa nuova puntata di Athletics to You, questa sera abbiamo con noi Paolo Dalsoglio, vecchia gloria, tra virgolette vecchia, del getto del peso italiano, oggi tecnico di successo. Come va Paolo, come stai? Buonasera, ciao, tutto bene, grazie, grazie dell'invito. Innanzitutto vorrei ringraziare il gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri per la disponibilità che ci concede per questa chiacchierata. Poi volevo tornare un attimo con la memoria a due settimane fa. Stoccolma 1996, Paolo Dalsoglio, Istanbul 2023, Zainweer. Le due medaglie d'oro del getto del peso agli europei indorla sono arrivate dal maestro e poi dal suo allievo. Sono passate due settimane, ma te ne sei accorto? Guarda, sì, ovviamente perché c'è questo ricordo di Stoccolma, ma ovviamente è una cosa in più. Ma lo ricordo bene perché proprio ieri sera ho chiamato Peter Cine, che è il mio mentore, assieme ad Aldo Pedron. Lui ovviamente adesso segue poco l'atletica. Gli ho detto, guarda che abbiamo vinto il titolo europeo indoro di nuovo. Ah, era felice. Poi gli dico, 22.06. Per tutta la telefonata di un quarto d'ora ogni tanto si diceva, 22. E' stata l'emozione forse più bella anche della gara perché Peter per me è persona fantastica. Poi ovviamente è stato un punto di riferimento insieme ad Aldo. E sentirlo così, diciamo a 88 anni, pensare che fosse così, così, cioè emozionato per la misura, e mi ha fatto qualcosa di strano ancora adesso, pensarci. Anzi, sto proprio pensando di andare a trovarlo perché è stata una cosa che mai mi sarei aspettato. Sai, magari un po' distaccato e tutto, era iper felice e quindi ha un significato fantastico. Ha un doppio, triplo valore questa gara, insomma. Volevo dirti proprio questa cosa, cioè il record italiano, 22.06. Ma a questo punto, secondo te, tu che conosci bene l'atleta, che conosci bene la sua situazione, dove può arrivare sempre? Allora, porre limiti e ho imparato a non... Cioè ho imparato, è difficile dire dove può arrivare un atleta, le potenzialità. Zain cosa può fare? Zain in questo momento, sembra, non vorrei essere esagerato, ma vale ben più di 22.50. Ricordo che lo scorso anno a Belgrado ovviamente era un lancio nullo, per amore di Dio, nessuno discute. Ha fatto un nullo a 22.72 misurato dopo gara, perché c'era il segno. E ovviamente ha un potenziale che attorno attualmente a quella prestazione, chiaramente con le condizioni ideali. Dove può arrivare? Non lo so. Ovviamente è quasi uno scoprire continuamente. Io ho un'esperienza di allenatore, ma è abbastanza breve, se pensiamo a allenatori che hanno l'esperienza di 30 anni alle spalle. Ho imparato che effettivamente lavorando bene con la tecnica, con continuità, in un ambiente sereno, a volte escono risultati che uno mai se lo aspetterebbe, insomma. Quanto è importante però la componente mentale in tutto questo? Diciamo che è la... vorrei dire che a un certo punto arrivato ad altissimo livello, siamo al 50-50. Tu puoi allenarti, puoi essere un talento o quant'altro, ma se non c'è la componente mentale siamo al 50, lasciamo giù tutto. Questa è una convinzione che sempre più mi sto rendendo conto io e anche ho avuto modo di confrontarmi con Werner Goldman, altro tedesco allenatore di Timmerman, con più o meno 27-28 medaglie fra mondiali e olimpiadi, quindi io devo solo inchinarmi a questi risultati e alla stessa domanda io ho chiesto quanto è il componente anche per lo 50-50. La testa fa la differenza, la differenza sia in allenamento, di essere focalizzato, di un certo punto l'atletica è un po' diventa uno sport egoista, tu devi impostare tutta la tua vita, lo stile di vita in funzione di quello che fai, quindi è abbastanza impegnativo. E poi ovviamente nella competizione. Mi ricordo a Zain prima delle Olimpiadi, quando ovviamente si è ritrovato catapultato dopo un anno in questo ambiente e mi fa prima della gara e mi guarda e adesso ho detto due opzioni. Adesso siamo fatti di emozioni, l'essere umano è bello soprattutto per quello e ci sono due opzioni. E' come andare a contro, cioè c'è un leone o gli corri a contro per andarci o scappi, decidi tu. L'emozione ti può disintegrare e renderti veramente, cioè non ti riconosci o ti può esaltare, non ci sono vie di mezzo, almeno questa è la mia condizione. Zain in questo momento lui ha fatto solo record personale in ogni manifestazione di alto livello, insomma quindi da questo punto di vista lui ha questa ulteriore arma in più oltre altre abilità, capacità ovviamente, perché 22 metri non escono solo per la forza di volontà mentale, è chiaro. Ultimamente ho sentito anche Leonardo Fabri, altro tuo ragazzo, lui effettivamente mi parlava molto di questo lavoro con il mental coach, insomma da quel punto di vista, però quanto influisce il tecnico, un tecnico come te appunto anche sul piano mentale? Allora, chiaramente se il tecnico viene coinvolto in questo processo diventa un po' più semplice, chiaramente perché anche se sono sport individuali il lavoro è di squadra. Chiaramente dove c'è una strada più semplice come per Zain in questo senso, perché ha queste capacità, lui è seguito anche lui da un mental coach, ma è una cosa per approfondire ulteriormente, probabilmente per sue capacità diventa più semplice, non ho bisogno, ho bisogno solo di bisogno, quando ci sono prima delle gare, quando vedi dei dubbi, delle preoccupazioni, più in allenamento devo dire la verità, che in gara è come quando si è rotto il dito, ho detto con calma facciamo tutto, niente è perso, la strada è disegnata, tenerlo paziente, lui ha ascoltato. Chiaramente con Leo sto facendo un gran lavoro, ovviamente ultimamente è poco di squadra, nel senso che è un lavoro che sta facendo personalmente col suo mental coach, però vedo che ci sono dei buoni risultati. Leo non ha problema di emozionarsi in gara, è che si esalta quasi troppo, Leo ha una potenza sopra che è veramente la sua arma, che nel momento in cui riuscirà e riuscirà a sfruttarlo non ce ne sarà per nessuno veramente, non perché lo seguo io, ma proprio perché è come avere un cannone, ma quando spara non ha i fermi che sono la parte sotto, le gambe, che sempre diventano un attimino più lenti, la parte sopra diventa troppo esuberante e questo in gara non riesce ancora a gestirlo, o meglio, lo sta gestendo, ma serve ancora a qualcosina in più, ma diciamo passi da gigante rispetto a uno o due anni fa. Interessante questo aspetto, sono venuti da qui tutti quei nulli in finale, secondo te? Assolutamente sì, allora è chiaro, sembra impossibile, ma al lancio con la rotazione si lavora su equilibri, su rotazioni, su angoli e su posizioni, nel momento in cui nell'arrivo, nella fase finale, quando arriva il piede sinistro, qualora la parte sopra, diciamo, è intervenuta in maniera precoce, prima di quando dovrebbe essere, in questa maniera spinge quel pochino in avanti e lì diventa difficile rimanere dentro. Infatti Leo ha fatto dei lanci lunghi, perché è vicino ai 22 metri, però non riusciva a cercare questo leggero sbilanciamento. La cosa buona, e al di là, adesso lavoreremo anche per migliorare questi aspetti, è che nel momento in cui, con un lancio tecnicamente normale, avrebbe potuto, oltre a rimanere dentro, sicuramente fare anche di più. Quindi anche Leo ha il potenziale che siamo veramente vicini a quello di, di Jane, abbiamo, c'è bisogno di lavorare su questo aspetto, serviranno molte, molte, molte gare, perché in allenamento puoi creare quello che vuoi, ma le tensioni della gara vanno, vanno, come dire, lavorate, allenate in gara, quindi più gare possibili, e ovviamente con la concorrenza di Jane in allenamento sarà sicuramente un aiuto, però lavoreremo sicuramente con Leo per imparare a gestire la parte, diciamo, questa esuberanza che poi va bene, ovviamente, però ovviamente va dosata. Deve essere contenuta, insomma. La potenza è nulla senza controllo, come si diceva una volta. Proprio il concetto del pneumatico, tu puoi avere una superauto, però se non è posto di pneumatici è difficile fare le cube. Senti, un'altra cosa che ci ha particolarmente colpito la sera dell'oro di Jane è stata la tua emozione, il fatto che tu dicessi, sì, è un cerchio che si chiude, quella di Jane è una storia bellissima, ecco, io voglio ricordarla questa storia. Nel 2019 Jane ti chiama, ricorda i suoi familiari italiani e ti dice, voglio lavorare con te. Da quel momento in poi cosa succede? Allora, Jane ha provato due volte a contattarmi, non direttamente perché non sono, a parte Whatsapp, e non sono sui social. È nel maggio 2019, tramite lei o altri, mi chiedeva, però sinceramente, siccome noi ci alleniamo a Bologna, al centro sportivo Carabinieri, dove abbiamo, penso, anzi, sicuramente il miglior centro per il getto del peso attualmente in Italia, dei quali devo ringraziare perché è stata, diciamo, il mio comandante Ottaviano, Giuliano, che ha creduto in me come allenatore e mi ha spinto a provare a fare il tecnico e è il motivo per cui sono qua e lo devo sicuramente a lui, altrimenti probabilmente non saremmo qui. e, diciamo, lui ha provato a contattarmi e era maggio, con il 2019, avevo preso così, e ho detto, ingestibile, siamo qui che ci alleniamo in caserma o altro, non avevo neanche pensato. Poi, a settembre, di nuovo all'attacco, chiedendomi, allora ho detto, questo ragazzo mi sono sentito, io ho detto, guarda, ho parlato un attimo. Cos'è si può trovare. Sì, io ho detto, guarda, fatalità poi capitava bene, al gennaio 2020, eravamo in Sudafia, siamo andati in Sudafia, ma lo sapevo già da, almeno per il periodo, possiamo vederci, e niente, vediamoci, vediamo cosa nasce, cosa c'è, del resto, effettivamente, ma era giusto anche dare, no, dare una chance. Era così, un ragazzo che chiede una mano, era giusto assecondare un attimo, niente mi costava, e poi, ovviamente, estremamente gentile, si sentiva da telefonate, da molto, il po' che quasi mi ha stupito, no, e niente, poi a gennaio ci siamo visti, abbiamo lanciato insieme, c'era anche Leo giù, ovviamente, e mi ha chiesto, e ci sarebbe continuare, ho chiesto ovviamente a Leo, ai ragazzi, se si andava bene, se si aggregava a noi, affermativo, ovvio, e il 3 marzo, è venuto in Italia, per ovviamente, a provare, a allenarci, a fare un po' insieme, anche grazie all'Enterprise. Il momento peggiore, quando stava per scoppiare tutto. Sì, infatti, è stato tutto organizzato, ricordo, l'Enterprise, SportServi, la società, che, su fiducia mia, ha fatto, diciamo, ha accordato, di, diciamo, detesserare, rimborsare i viaggi, a Zain, sulla parola, perché è un ragazzo, che, quando l'ho trovato io, ho fatto 19, guarda, 18, 50, 19, sicuramente li fa, perché lo viva, allenando, siccome, salirà, non so fino a quanto, e, appunto, è arrivato il 3 di marzo, ed è stato incredibile, perché, in quel momento, vabbè, tutto lo sappiamo, non c'era ancora, questo, no, panico, questa, isteria totale, insomma, il 10, lockdown, e che fare, e lì, devo appunto, ringraziare mia moglie, che, mi ricordo, sempre, mi ha chiamato, perché, ero preoccupato, perché rientrare in Sudafrica, appena rientrato, non era una situazione semplice, poi c'era una situazione abbastanza caotica, sapevo che mi diceva, se gli va bene, gli chi viene a casa con noi, e, il 12 marzo, lockdown, è venuto a casa, è rimasto lì, fino a settembre. Ha dormito in taverno? Dormito in taverno? Sì, io ho chiamato, è una stanza, che non abbiamo, a livello proprio, per andare in giardino, quindi, non è un sotterraneo, anzi, è una stanza, che utilizziamo, praticamente, sempre d'estate, e lui è rimasto, stato con noi, ci siamo allenati, è stato anche divertente, nel senso, un modo per passare, un po' il tempo per tutti, perché in quel periodo, soprattutto i primi due mesi, aprile, metà maggio, fino a metà maggio, abbastanza, così, surreale, uso questo termine, Certo. Quindi, molto semplice, un giorno ci si allenava, lavoro tecnico, un giorno un lavoro, diciamo, di forza condizionale generale, un po' di pesetti, pochissima cosa, proprio perché, non potendo avere un fisioterapista, non era il caso di incidibili, e da lì, quotidianamente, se è uscito, ho notato, miglioramenti incredibili, fino ad arrivare poi a 20 e 70, alla fine di quell'anno, che è stato, si sarebbe da raccontare una storia, sul 20 e 70, bellissimo. prego, siamo addirittori, il fatto della determinazione, e di Zaino, allora Zaino, immaginate, dall'altra parte del mondo, lockdown, bloccato, non è semplice, io non so se avrei resistito, infatti, gli avevo detto, se vuoi, troviamo il sistema, per rifarti, rimpatriare, in questo, ma va bene, se va bene rimanere, parlato con suo papà, se va benissimo, siamo in cinque, in famiglia, uno in più non cambia, anzi, faremo un grande esercizio, di inglese, infatti, come ho detto più volte, mio figlio, ha fatto un salto in avanti, con l'inglese, che è stato, devo ringraziare Zaino, e niente, fra le varie cose, lui, appunto dicevo, dove dormiva lui, nella nostra, diciamo, nella nostra soggiorno, barra taverna, e la facciamo per andare, dobbiamo passare di lì, per andare in giardino, e un giorno passando, avevo visto un foglio, con scritto, c'era scritto una misura, no? L'ho stilizzata, messa lì, l'ho fotografata, ce l'ho, casomai, te la mando, e poi l'ho messa via lì, e ho sorriso, quando ho visto, perché Zaino, è arrivato in Italia, che aveva, 19, ha fatto 19, 9,09, quando mi ha incontrato, 19,20, alla prima gara, in Sudafrica, dopo una settimana, 15 giorni di allenamento, assieme, e quello era il personal best, era scritto 20,70, su quel foglio, lui se n'era dimenticato, e quando l'ha fatto, a settembre, io ho detto, Zaino, ma allora che? E non si ricordava, gli ho detto, ah, vero, e l'ha cercato, e l'era dentro, sui suoi fogli, e c'era questo, quindi, a volte, sai, può essere una cosa romantica, o meno, però, c'era un obiettivo, fissato, o una misura scritta, non so per quale motivo, e quando io, quando mi ha detto, ho fatto 20,70, io, io, sono rimasto, la forza di volontà, a volte, aiuta, non poco, e quindi, questo è stato, si confonde anche un po' col destino, in questo caso, sì, è una cosa, che è anche bello, perché sono gli aspetti, nello sport, a volte, capitano queste cose, e sono belle anche da raccontare, perché, può pensare, quanto può essere, profondo, a volte, il rapporto, con un atleta, e la sua, la sua dedizione, allo sport, l'amore, la passione, perché poi, quello è la cosa più, più importante, nell'atletica almeno, ma penso in tutti gli sport, se non c'è, sta componente, a parte che diventa una cosa, piatta, sterile, non si va da nessuna parte, e da lì, poi, sono cominciati, i lavori, e vabbè, i raduni, andavamo giù, in Sudafrica, siamo andati, in Sudafrica, anche durante, il, diciamo, il periodo della pandemia, e da questo, devo ringraziare, sia il centro sportivo, che la federazione, che ha fatto i salti mortali, per farci andare giù, perché io avevo, ho da allenare anche Zain, è un potenziale, anche Leo e Zain, insieme, possono far bene, e ci hanno, hanno fatto in modo, che noi potessimo allenarci, nelle migliori condizioni, quindi, bene, bene, perché poi, i risultati, sono, stanno uscendo, sono venuti, e ce ne saranno ancora, di più, di più importanti. Zain è un po' il simbolo, di questa nouvelle vague, chiamiamola così, del getto del peso italiano, no? Fabbrino, come viene chiamato, invece, sta ritrovando un po', la sua strada, si era un po' perso, ultimamente, qual è la situazione, al momento, del getto del peso in Italia, aggiungiamo anche, Nick Ponzio? Beh, guarda, allora, la situazione, è che l'Italia, è la seconda nazione al mondo, dopo gli Stati Uniti, per il getto del peso, e questo fa, fa impressione, no? Perché, gli Stati Uniti, insomma, 300 milioni di abitanti, gli Stati Uniti, sappiamo cos'è per l'atletica, e noi siamo, siamo secondi, con un buon livello, voglio dire, con tre atleti, adesso uno, finalmente, sopra i 22 metri, uno, Leo, a poco o meno, di un centimetro, e Nick, sempre, sempre lì sotto, e ovviamente, e non dimentichiamo, che adesso, loro stanno a sto livello, però dietro, c'è un fermento, non indifferente, se pensiamo, a Sebastiano Bianchetti, 20 e 03, o 04, alle indoor, nessuno se ne è accorto, nessuno, 20 metri, ha fatto una prestazione, veramente valida, poi c'è Riccardo Ferrara, anche lui, vicino ai 20 metri, Leonardo, e scusa, Lorenzo Delgatto, anche lui, 19 e 78, se non sbaglio, e quindi proprio, e altri, siamo in Italia, una volta, si andava in finale, negli 8, con 15 metri, 15, 16, adesso, bisogna lanciare, a 19 metri, per essere sicuri, in finale, quindi, chiaramente, sembra impossibile, ma quando un movimento parte, c'è quasi un traino, così un treno, che tutti riescono a prenderlo come stimolo, benissimo, ben venga, perché finalmente, ci sono, c'è interesse per la specialità, e questo fa solo che piacere, e diventa anche uno spettacolo, perché poi, le gare sono, sono belle, se c'è competizione, se uno fa 22, il secondo fa 18, tutto è, ma tranne, che è una bella, che è una bella gara, insomma. Certo. No, hai citato giustamente, gli Stati Uniti, negli Stati Uniti, c'è un signore, che effettivamente, pratica un altro sport, come mi diceva Fabri, che è Ryan Krauser, questo record del mondo, indoor, pazzesco, questa tecnica, di cui si parla molto, avvenilistica, a quanto pare, magari, no? No, nel senso, sicuramente, lui è il numero uno, in discorso, è forte, sta, sia come, vabbè, prestazioni top, record del mondo, e chi lo può mettere in discussione, ma anche come media di lanci, sul discorso della tecnica, avvenilistica, fa un po' sorridere, si è spostato a destra, io l'ho fatto nel 96, meno male che c'è arrivato adesso, a spostarsi lui, perché io, vuol dire, ho visto i benefici dal 96, un certo Tom Walsh, anche lui è spostato a destra, e lancia, secondo me, una delle migliori tecniche, non vedo, dei grandi cambiamenti, ovviamente, lui ha delle, diciamo, delle caratteristiche, sicuramente, è il numero uno, in questo senso, dispiace un po', devo essere sincero, quando ha fatto il record del mondo, ma non per noi, perché vuol dire, si sa che fa, nel confronto, dei suoi con nazionali, che ha preferito gareggiare, in una gara, così, di livello, boh, non lo so, di secondo piano, mettiamola così, contemporanea, con il campionato nazionale, i famosi Trias, che poi i Trias, non sono perché non hanno gare, di riferimento, però un campionato nazionale americano, nello stesso giorno, due ore prima, mi è sembrato, poco elegante, nei confronti, dei loro colleghi, però, questo è un modo mio, di pensare, la nostra passione, per lo sport, magari, in Italia, è diversa, rispetto al modo di pensare, negli Stati Uniti, sicuramente, magari, avrà avuto dei vantaggi, sicuramente economici, perché altro non si spiega, oppure, ho altro in questo, quindi, sicuramente, lui, attualmente, se, lui, lo stesso, Joe Coval, in gara, loro due, sicuramente, una medaglia, va accantonata, attualmente, se è un campionato, il secondo, Krauser, è in condizione perfetta, si va per il secondo, o il terzo posto, e sperando che, sperando che Kovac, non sia anche lui in palla, perché allora, dal terzo in poi, la medaglia diventa una, per battere, perché, nettamente, atleti che fanno 23 metri, costantemente, oltre 22,50, ma proprio così, diciamo, ogni gara, non puoi andare in gara, sperando che loro, se lo tirino sui piedi, quindi, sì, ma un altro sport, è lo stesso sport, ma, sono più bravi, come è programmato, la stagione all'aperto, allora, stagione all'aperto, è focalizzata, su Budapest, i mondiali, è chiaro, con una serie di gradi, di avvicinamento, chiaramente Budapest, rimane la gara clou, essendo a fine agosto, abbiamo un po' di tempo, per lavorare, fra aprile, e maggio, diciamo, aprile, sicuramente, molto intenso, e saremo in Sudafrica, nuovamente, da fine settimana prossima, tutto il mese, e poi, ci sarà una gara, probabilmente, che è una, a Gaborone, in Botswana, a fine raduno, che è un golden tour, quindi, un golden meeting, però, la stagione comincerà, da fine maggio, con un po' di condizione buona, perché, chiaramente, essendo, essendo, fine agosto, non possiamo pretendere, di essere, a palla, già, a maggio, come fine maggio, con alcune gare, chiaramente, la golden, il golden gala, sarà una di quelle, gare, veramente importanti, di riferimento, e possibilmente, la volontà, di partecipare, anche agli altri, diamond league, dove c'è il peso, con tutte le gare, quindi, poi, con la campionata europea squadre, e anche lì, sarà bello, no? quest'anno abbiamo atleti, cioè, la torre, dovrà gestirsi, ha da scegliere, quale prendo, e lì, forse, non so se era meglio prima, per lui, o dopo, comunque, chiaramente, sarà, un'altra gara, di, però, ovviamente, per lei, un po' più di gare, quello sì, perché voglio farlo, deve entrare nel vivo, soprattutto, perché, ha bisogno, è stato anche, un po' sfortunato, ha, lui ha bisogno, di, 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 di fare, un paio di misure, che, quest'anno, ha fatto 21,60, tanti dicono, però vale molto di più, e lui lo sa, e questo, può essere, come dire, un po', da, mi dice, Paolo, ma, quanta pazienza, sì, ci vuole tanta pazienza, ma è come, poi, quando rompi il ghiaccio, e va, quindi, un po' di più, un po' di meno, anche perché, dopo l'infortunio, nello scorso anno, abbiamo deciso, di non esagerare, con gare, non numero di gare, ma, gare troppo vicino, l'una dall'altra, soprattutto, se, gli spostamenti, fra una gara e l'altra, diventano viaggi, della speranza, quindi, abbiamo imparato, anche questo, nello scorso anno, e, quindi, più qualità, che quantità, assolutamente, sì, anche proprio, perché, essendo poi, la gara, a fine agosto, bisogna mantenere, le energie, d'altro canto, bisogna considerare, a Zain, che, è un dettaglio, quando, io vado in Sudafrica, ci alleniamo, sia a novembre, che a dicembre, e gennaio, e tutti dicono, vado in Sudafrica, perché Zain è sudafricano, no, vado in Sudafrica, perché, abbiamo le condizioni migliori, a caldo, senza fuso orario, ma, voglio far notare, che Zain, quando siamo, in Sudafrica, Stella, in Bosh, lui è, a circa, due ore, di aereo, da casa sua, quindi, è come se io, da Vicenza, vado a Londra, e quindi, lui è via da casa, quindi, lui è in Sudafrica, più o meno, 15 giorni più di me, è lontano da casa, e adesso, quando rientrerà a maggio, per la stagione, arrivare fino ad agosto, c'è bisogno, di conservare le energie, perché non è semplice, star via, così tanto da casa, ed è una cosa, non è un dettaglio, e questo, voglio farle sottolineare, che, a volte, forse la differenza, tra gli atleti, diciamo, come Zain, che decide di gareggiare, per l'Italia, venendo da un altro paese, dove è cresciuto, del quale ha, assoluto rispetto, come ce l'ha per l'Italia, ma crea una mentalità di, cioè, si impegnano, investono, e tutto quello che hanno, anche in termini di tempo, per ottenere risultato, e quindi, una determinazione, non da poco, che, forse, qualcuno in più, qualcosa in più, che manca, un po' generalmente, in Italia, perché abbiamo, delle condizioni, molto più favorevoli, cioè, poco da dire, se confrontiamo, le condizioni che ci sono, per far sport in Sudafrica, sport, ad alto livello, non durante, perché fino, all'università, o fino alla scuola, diciamo, superiore, le condizioni, le condizioni sono eccezionali, pensiamo che in Sudafrica, è obbligatorio, fare almeno, una disciplina sportiva, in tutti gli anni di scuola, è obbligatorio, da noi, a momenti, ti, ti, puniscono, se fai sport, qualche volta, spesso, spesso succede, quindi questo, sicuramente, fa, quindi, per Zain, sarà molto importante, ma è un altro accordo, nel momento in cui, fra virgolette, le batterie, si dovessero scaricare, bisogna fare, in modo, che queste, si ricarichino, con, o ritornando a casa, o creando, le condizioni, perché, adesso, è già più semplice, perché, eventualmente, anche i genitori, possono spostarsi, durante la pandemia, era, 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 impensabile, ecco. E poi, tanta determinazione, e spirito di sacrificio, siamo arrivati, a conclusione della puntata, Paolo, io ti ringrazio tanto, per questa, bella chiacchierata, per le storie, che ci hai raccontato, questi racconti, fantastici, in bocca al lupo, a te, i tuoi ragazzi. Trebi il lupo, grazie a voi, della, dell'opportunità, che ci date, di, di presentare, al nostro, nostro mondo, insomma, al nostro, il nostro sport, grazie. Speriamo bene, anche per il futuro, arrivederci a tutti, alla prossima puntata, ciao! Ciao! Ciao!